E voi, gente mia, chi sta diventando a guardare, aiutati sta povera creatura, faciti qualcosa per farla revigliare, sto sonno è troppo amaro da soffortare, gente mia, aiutati sta anima disperata, non faciti che resta su tutti gli stessi pezzi che l'hanno ammazzata, e se non sapete di che fare, dici di Marmeno, di quale preghiera posso pregare? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.